Il 25 febbraio 2014, Gianni Colacione, alla sede radicale di Torre Argentina, incontriamo Massimiano Iervolino. Lo ringraziamo, Massimiano Iervolino è già stato sugli schermi di LibreTV e parliamo con lui del suo ultimo libro, De Follazio, per le edizioni infinito, infinito edizioni. Allora, questo libro Massimiano ha scritto già altri libri, in particolare si è occupato di rifiuti, ormai è un esperto a livello mondiale. Questo libro, De Follazio, ripercorre alcune tappe importanti di una sua esperienza, che è stata un'esperienza personale, come collaboratore del gruppo consigliare alla regione Lazio della lista Bonino. Stiamo parlando del periodo 2010-2012, inizio 2013. E lì ha fatto un'esperienza come collaboratore, quindi questo grande contenitore in qualche modo partitocratico, che è la regione Lazio, e ha pensato di scrivere questo libro, adesso gli chiederemo perché, con un'efficacia narrativa, perché oltre che dati, ci sono anche delle descrizioni come un'efficacia narrativa, un racconto di persone, io direi di personaggi veramente molto singolari, purtroppo magari che si ripetono a livello nazionale, nella politica nazionale, un po' troppo frequentemente. Ma io partirei proprio con i motivi che hanno spinto Massimiliano a scrivere questo libro. Perché? Ma volevo scrivere ed ho scritto un libro per raccontare la mia esperienza che ho avuto dal 2010 al 2013, prima inizialmente come coordinatore del programma di Emma Bonino, che allora era candidata alla presidenza della regione Lazio e poi rispetto a quello che è successo in Consiglio regionale proprio dal 2010 agli inizi del 2013, per quanto riguarda non solo le vicende Maruccio, Polverini, Fiorito, ma anche una descrizione di come non funziona un Consiglio regionale, quindi di come non funzionano gli eletti. Io l'ho chiamato un po' la bancarotta democratica di un Consiglio regionale, perché come tutti ricordano o ricorderanno, quando c'è una campagna elettorale e ci sono i candidati al Consiglio regionale, quindi a diventare eletti, onorevoli del Consiglio regionale, tutti promettono di tutto e di più, dalla sanità, ai rifiuti, ai trasporti, eccetera, eccetera. Poi quando si entra in un Consiglio regionale ci si accorge che il 90-95% delle leggi che vengono fatte da un Consiglio regionale sono proposte di giunta, in più tutte quelle che sono le funzioni degli eletti, tra cui mozioni, ordini del giorno, interrogazioni, accesso agli atti, sono delle funzioni che lasciano il tempo che trovano, perché o perché c'è una giunta che non risponde quasi mai, o perché i consiglieri regionali, come si è dimostrato nella legislatura, Polverini, pensano a tutt'altro. E questo è un punto centrale per capire a cosa servivano quei famosi 13,9 milioni di euro che erano i fondi e i gruppi regionali, proprio per pagare le campagne elettorali che erano già state fatte o per pagare le campagne elettorali future. Partiamo dall'inizio, intanto volevo dire che la prefazione di questo libro è di Paolo Mondani e la postfazione di Rocco Berardo, che era appunto uno dei due consiglieri regionali della lista Bonino e insieme a Giuseppe Rosso di Vita. Allora, le regionali del 2010, non ci sono le liste del PDL, c'è stata tutta quanta una specie di farza perché all'ultimo momento non sono riuscite a presentare queste liste, hanno detto che furono diciamo impediti dai radicali che gli avevano addirittura menato e quindi praticamente la Polverini si candida con una lista civica, se non erro, è una lista civica e Emma Bonino è la candidata per il PD. Ecco, quindi insomma uno scontro che in teoria è diciamo politicamente tra due gruppi politici, tra due partiti, insomma, tra titani. Quindi insomma, ma in realtà poi dopo alla fine è stato tutto quanto così chiaro e così prevedibile rispetto agli schieramenti e qualcosa è andato un po' stranamente. Allora, diciamo che prima di tutto va puntualizzato che la lista del PDL non fu presentata per la provincia di Roma. Nelle altre province fu presentata, non fu presentata perché chi doveva consegnare le liste e le firme arrivò tardi e grazie a Diego Sabatinelli che gli ascoltatori ricorderanno che si sdraiò lì dove dovevano essere consegnate le firme, il PDL non riuscì a varcare quella porta e quindi non si consegnarono le firme. C'è da dire sulla questione delle elezioni regionali del 2010 che il centrosinistra usciva fuori con le osse rotte, non tanto politicamente ma in quanto alla figura che aveva dato lo scandalo Marrazzo. Tutti ricorderanno la questione Marrazzo che è una questione che uscì fuori alla fine del 2009 e che portò a delle difficoltà rispetto al centrosinistra a trovare un candidato. Nessuno si voleva candidare perché tutti erano certi che chiunque si candidasse perdesse. Allora ci fu un'iniziativa radicale, se non erro nel gennaio 2010, di candidare Emma Bonino a governatrice del Lazio come lista Bonino Pannella. Ci furono vari personaggi del PD, tra cui Nicola Zingaretti, che subito appoggiarono questa candidatura e questa candidatura nei giorni successivi fu certificata e fu appoggiata da tutto il PD. Quello che accadde in quelle elezioni è sicuramente un qualcosa che va ricordato. È vero come è vero che non tutto il PD si spese per le elezioni di Emma Bonino alla regione Lazio. Sia la parte più cattolica che ha visto sempre con timore un'eventuale vittoria di Emma Bonino, ma anche altre parti del PD più vicine a quello che è storicamente la parte più estrema, la parte più sinistra che aveva paura che Emma Bonino potesse portare quelle riforme liberali in regione Lazio che ancora oggi non ci sono e che invece servivano e ancora servono per ripianare miliardi e miliardi di debiti. E quindi praticamente poi abbiamo avuto anche su questo la testimonianza dell'ex direttore o direttrice dell'unità, che mi sfugge il nome, concilia De Gregorio che disse che lei a un certo punto, intuendo che c'era un atteggiamento poco schierato del PD rispetto a Emma Bonino, andò al partito a chiedere ma che cosa devo fare io perché lei era elettore dell'unità e insomma dissero che invece bisognava, lei così racconta, appoggiare la Polverini perché lei era all'epoca in quota del gruppo Fini che a sua volta stava in rottura con Berlusconi quindi appoggiare la Polverini era in rafforzare Fini e quindi è tutto un discorso. In tutta questa storia si intrecciano sia questioni nazionali che questioni locali, anche sulla questione Fiorito si intrecciano questioni nazionali e questioni locali. Per quanto riguarda le elezioni della Polverini quello che dici tu è verissimo, c'è anche un altro fatto che è stato poco sottolineato, solo Marco Pannella ha cercato di sottolinearlo che per la campagna elettorale di Emma Bonino si spese un milione d'euro, se non ricordo male, per quella di Marrazzo se ne spesero cinque. Questo dà anche un po' il senso e il significato di quello che fu quella campagna elettorale. Poi anche il nazionale comunque come ha ricordato con Cita De Gregori in quella famosa intervista ha avuto il suo peso, perché non ci dimentichiamo che durante le elezioni del 2010 c'era già in atto uno scontro all'interno del PDL tra Berlusconi e Fini e la Polverini allora era l'unica candidata riconducibile a Fini e quindi una vittoria della Polverini in Regione Lazio avrebbe, secondo alcuni grandi strateghi, portato alla rottura tra Fini e Berlusconi, rottura che avverrà ma non per questo motivo e quindi si poteva già prefigurare un allargamento del centro e quindi un'alleanza tra il centro e il PD per fare un nuovo governo e quindi successivo a Berlusconi. Quindi questo è lo scenario su cui si muove un pochino tutta questa avventura, se così possiamo chiamarla, della consigliatura di cui fecevano parte i due consiglieri regionali Berardo e Rosso di Vita. A questo punto si è arrivata in qualche modo in questa Regione Lazio che già ha di per sé una serie di tare. Io la più macroscopica, leggendo il tuo libro, che a me è sembrato, sono praticamente 10 miliardi di debito per quanto riguarda la regione, la sanità, che è una cosa veramente incredibile. Diciamo che fino a pochi mesi fa i debiti della Regione Lazio si attestavano intorno ai 12 miliardi di euro. È normale che la sanità ha una grande fetta di questo debito, è quello sanitario, perché non dimentichiamo che il 70% del bilancio della Regione Lazio è proprio un bilancio che deve tener conto della delega più pesante che quella sanitaria. Poi in questi mesi ci sono stati dei provvedimenti di Zingaretti che hanno abbassato quel debito, però molto probabilmente quell'abbassamento del debito lo dovranno pagare i cittadini tramite un aumento dell'IRPEF e dell'IRAP. Detto questo, questa è stata sempre una Regione economicamente e finanziariamente al dissesto. Pochi mesi fa anche questa è una notizia. La Corte dei Conti ha certificato e ha detto che questa è una Regione che è fallita da almeno 10 anni, quindi non da un anno, tre anni o quattro anni, almeno da 10 anni, dove il deficit annuale per quanto riguarda il disavanzo annuale per quanto riguarda la sanità è ancora molto alto. L'ultimo dovrebbe essere intorno ai 670-700 milioni di euro. Veniamo da anni quando governava Storace, ma anche quando governava Marrazzo, che avevamo un disavanzo sulla questione sanitaria di circa 2 miliardi di euro. Non dimentichiamo che questa materia è una materia commissariata da tantissimi anni, quindi anche su questo c'è l'uomo solo al comando e quindi un consiglio regionale, quindi tutti i consiglieri regionali, questo è ben descritto nel libro, non hanno nessun potere in questa materia così importante. Oggi è Zingaretti come prima è stata la Polverini e come ancora prima è stato Marrazzo, quindi anche qui tornando alle famose campagne elettorali dove tutti i candidati alla Regione Lazio parlano di sanità, come vorrebbero cambiare la sanità, tutto quello che vorrebbero fare la sanità, poi si scontrano con la realtà, vedono che non possono fare assolutamente nulla perché alle interrogazioni non ti rispondono, le proposte di legge non possono essere presentate, quasi tutte le proposte di legge in materia sanitaria non possono essere presentate perché la sanità è commissariata e quindi capisci bene che se mi togli la possibilità di intervenire su una voce di bilancio che copre il 70% dell'intero bilancio capisci che le mie funzioni sono quasi azzerate. A questo si vale aggiungere che anche sui rifiuti per quanto riguarda la città di Roma fino a pochi mesi fa c'è stato un commissariamento quindi anche su quello, quindi discariche eccetera eccetera avevano poche voci in capitolo. In più per quanto riguarda il disastro finanziario c'è da sottolineare che in Regione Lazio esistono moltissime società cosiddette in house che anche qui la Corte dei Conti ha definito delle vere e proprie repubbliche autonome perché non si conosce assolutamente nulla di queste società eppure vivono con soldi pubblici che anno dopo anno quasi tutte portano il segno meno e quindi quasi tutte contribuiscono al fallimento di una regione che come tutti sanno è al di sesto. Tu infatti descrivi queste società, sono società di cui peraltro non si riesce a monitorare minimamente le spese e se sono appunto gli stanziamenti di cui usufruiscono se vengono spesi per loro scopo e quindi sì è veramente tremendo. Quindi abbiamo visto un po' lo scenario in cui in qualche modo atterrano su questo pianeta Regione Lazio i due consiglieri regionali e i collaboratori. Dopodiché la parte più meritoria secondo me oltre a tutto il resto che i due consiglieri e tutti quanti i collaboratori è l'attività appunto per cercare di modificare quello che è un pochino tutto il discorso dei finanziamenti ai consiglieri regionali, ai gruppi politici. Tu fai un escursus storico breve ma importante parlando appunto di una legge su questo, sui finanziamenti ai consiglieri regionali che parte appunto esiste dal 1973, dal 1973. Ha tutta una serie di evoluzioni ovviamente increscendo in valori assoluti fino ad arrivare appunto a una moltiplicazione per 14 al momento della giunta Polverini. Ecco io volevo chiederti prima di tutto appunto se ci vuoi accennare quali sono le tappe di questa crescita esponenziale più importanti e poi quali appunto le attività importanti che appunto hanno fatto i due consiglieri radicali che poi dopo ha dato il via a una serie di conseguenze su tutte le regioni proprio su questi campi, indagini, processi in tantissime regioni. Ma io parto dal presupposto che uno si chiederà allora che cosa fanno tutto il tempo i consiglieri regionali o quasi tutti i consiglieri regionali all'interno di un'aula, all'interno di istituzione se la sanità è commissariata, i rifiuti sono mezzi commissariati, le proposte di legge e quindi le leggi vengono quasi tutte dall'aggiunta, allora che cosa fa un consigliere regionale? Ma a parte qualcuno, un consigliere regionale non fa altro che curare il suo territorio, ma come lo sanno curare loro, quindi non lo curano, e cercare di accrescere il proprio potere elettorale. Questo come lo fanno? Lo fanno anche grazie ai finanziamenti, ai finanziamenti che un consiglio regionale dà. Ora storicamente le tappe importanti, a parte quella del 1973 che è una legge che poi rientrerà in gioco quando ci sarà lo scandalo Fiorito-Maruccio-Polverini, a parte quello c'è stato sempre il finanziamento ai consiglieri regionali tramite la tabella B, che cos'era la tabella B che ha vissuto durante l'epoca Storace e durante l'epoca Marrazzo? Era una tabella dove ogni consigliere, in occasione di un bilancio, poteva chiedere all'aggiunta di inserire un'associazione sua di riferimento o più associazioni di riferimento a cui dare un contributo. Si parte dai 500.000 euro a consigliere per poi finire verso i 250.000 euro a consigliere. Capite bene che 500.000 euro a consigliere moltiplicato per 70, moltiplicato per 5 anni di legislatura sono un sacco dei soldi. Quei soldi a che cosa servivano? Servivano ad assicurarsi le preferenze perché, come sempre dico, è difficile capire come perfetti sconosciuti che sui giornali non si leggono mai, in televisione non si vedono mai, possano prendere più di 10.000, 15.000 preferenze. Ma come lo si fa? Lo si fa tramite il finanziamento illecito dei partiti. Quando questa cosa è finita, quella delle tabelle A e delle tabelle B, perché c'è stata una denuncia giornalistica che è stata quella del Colliere della Sera, se non ricordo male, del 2007, poi si è andata avanti per un po' abbassando queste cifre. Poi che cosa accade? Accade che la Polverini vince le elezioni del 2010 e praticamente si deve capire, i loro signori devono capire come finanziare la propria politica, come pagare i debiti della vecchia campagna elettorale, come iniziare a muoversi per la campagna elettorale successiva. Allora che cosa fanno? Cercano di sfruttare la legge del 1973, perché la legge del 1973 è quella che permette il finanziamento ai gruppi consigliari, ma per due cose specifiche. La prima è per fare dei contratti di consulenza ad altre persone che possono lavorare con il gruppo e la seconda è quella di pubblicizzare l'attività politica del gruppo, tramite manifesti, convegni, eccetera. Quindi appoggiandosi a questa legge i finanziamenti che sull'epoca Marrazzo era solo di un milione d'euro, poi balzano a circa 14 milioni d'euro, circa 13,9 milioni d'euro. E lì, visto che nessuno controlla, nessuno controllava come venivano spesi quei soldi, accade il macello. Allora escono fuori i festini, escono fuori le cravate di Marinella, escono fuori i SUV, escono fuori le giocate alla slot machine, perché? Perché nessuno voleva controllare, tutti facevano finta di nulla. Infatti, su questo è molto importante sottolinearlo, quando i radicali in Consiglio regionale presentarono la proposta di anagrafe pubblica degli eletti, Polverini e la giunta di centrodestra sembrava d'accordo. Quando si accorsero che in quella proposta radicale c'era anche la rendicontazione di tutti quei fondi che andavano ai gruppi regionali, quella proposta di legge si impantano. Come scoppia il casino? Il casino scoppia per un combinato disposto di due articoli di giornale. Il primo articolo di giornale è quello di Mauro Evangelisti sul Messaggero, che praticamente da voce, da scrittura, ha una lettera che qualche giorno prima, Fiorito, inviò a tutti i consiglieri del PDL, dove disse attenzione qui mi arrivano delle ricevute che molto probabilmente non corrispondono al vero e che praticamente voi dei soldi del gruppo fate quello che volete. Un'altra iniziativa che fu riportata sul giornale è il famoso articolo di agosto 2012 a firma Sergio Rizzo, che praticamente dava atto ai radicali di avere da soli pubblicato il proprio bilancio del gruppo sul sito internet dove tutti i cittadini potevano vedere come venivano spesi quei soldi e proprio grazie a quell'opera di trasparenza uscì fuori che i soldi non erano pochissimi ma erano tantissimi e quindi da quei due articoli di giornale si iniziò ad indagare quanti erano i contributi agli altri gruppi, come venivano usati i contributi agli altri gruppi, che cosa c'era dietro in tutta quella storia. È normale che quella storia uscì fuori perché all'interno del partito dei Berlusconi ci fu una guerra grossa e una guerra devastante tra l'anima di Forza Italia, capeggiata dal parlamentare europeo Tajani e l'anima più vicina dall'Alemanno capeggiata, quindi dell'ex Annina, capeggiata dall'allora Franco Fiorito. E quindi insomma degli scontri interni che sono serviti una volta tanto a far uscire, almeno hanno contribuito a questa operazione verità che poi dopo si è in qualche modo dilagato anche in altre regioni, è un fenomeno un po' strano perché i procuri non dovrebbero funzionare diciamo per diffusione mediatica o per recontaminazioni di questo tipo, però fatto sta che poi alla fine varie regioni si sono trovate con questo tipo di problemi e si sono fatte parecchie indagini e sono saltate anche delle giunte regionali. Poi peraltro una cosa che volevo dire, volevo anche citare, è che una parte dei soldi del gruppo che avevo considerato radicali furono restituiti poi, ci fu una conferenza stampa, alla fine vengono restituiti. In tutto questo, tua descrizione molto puntuale, anche corredata di appunto in relazioni di tipo tecnico, molto importanti, con numeri, cifre e così via, come accennavo non hai trascurato anche, insomma, quello che secondo me è anche una dote narrativa che tu hai nel dare un pochino al lettore un quadro di alcuni personaggi che sono appunto Fiorito, La Polverini e Marruccio, che sono veramente dei personaggi che sembra che uno qui li stia caricaturizzando, ma pensare che persone con questo tipo di connotazioni che direi perlomeno problematiche, abbiano in mano i soldi pubblici, tanti soldi pubblici e tanto arbitrio senza controllo per poterli spendere, è veramente una cosa che inquieta e che mette veramente tristezza, veramente tristezza come cittadini, come cittadini. Ecco, quale di questi tre secondo te è quello che merda più di essere in qualche modo citato succintamente alla fine di questa nostra intervista? Ma io credo Fiorito, avendolo conosciuto molto bene, avendo avuto anche uno scontro con lui, devo dire che prima che scoppiasse tutto questo casino era una persona che all'interno del Consiglio regionale faceva quello che voleva, sembrava uno di quelli veramente intoccabili che poteva fare il buono e il cattivo tempo di tutto quello che accadeva. Non dimentichiamo che Fiorito nel 2010 nelle elezioni regionali prese circa 27.700 preferenze, quindi non parliamo di 1.500 oppure qualcosina in più. Quindi un personaggio che negli anni si è costruito un suo elettorato nei modi che prima ho cercato di descrivere e che la magistratura ha portato alla luce. Fiorito è stata sempre una persona molto sicura di sé, molto orgogliosa di sé, che però, devo dire anche questo, è l'unico fino ad oggi che ha pagato. Ma l'unico che ha pagato perché era quello più visibile, era quello più scontroso, era quello più buffo anche sotto certi punti di vista. Sicuramente tutti quelli che stanno vedendo questa intervista lo ricordano bene alle varie trasmissioni e quindi ricordano bene anche il suo modo di fare, molto da buffone. Era proprio così anche prima dello scandalo, prima dello scoppio dello scandalo e quindi quello è stato proprio il perfetto caproespriatorio. È stato proprio quello che doveva pagare per tutti. Molto probabilmente doveva pagare per tutti perché i fondi di cui faceva uso sono stati spesi in un modo molto molto allegro, infatti è stato accusato e condannato per peculato. Però non va dimenticato che vicino a lui c'erano più strutture che hanno usato quei fondi non in modo proprio corretto e quindi dare solo la colpa a Fiorito e dire che la regione Lazio è cascata solo su Fiorito, magari su Maruccio, è un qualcosa tipico dell'Italia per dare la colpa solo a qualcuno e per salvare il sistema. Sì, mi veniva in mente mentre parlavi appunto di questi personaggi che anche la ribalta della Polverini, insomma Polverini che viene fuori da una storia già diciamo problematica secondo me, secondo dei parametri di democrazia e trasparenza sindacale con delle iscrizioni, un sindacato che insomma non si capiva quante persone se ci aveva richiesto. Ecco sì, l'UGL e che in qualche modo è stata sponsorizzata tantissimo da Ballarò. Sì, è una cosa in più. Ma anche dopo, anche dopo lo scandalo Fiorito, Maruccio, Polverini eccetera eccetera, Ballarò ha continuato a invitarla. Ballarò ha creato la Polverini, Ballarò ha fatto entrare Renata Polverini nella casa di tutti gli italiani, altrimenti prima nessuno la conosceva, era segretaria dell'UGL però la sua potenza mediatica è cresciuta grazie al programma di di Floris. C'è da dire che lei in tutta questa storia si è trovata, come ho detto prima, all'interno di uno scontro che andava oltre le proprie capacità, cioè si è trovata all'interno di uno scontro nazionale che poi lei ha cercato, anche con la presentazione durante le amministrative del 2011, del suo soggetto politico che si chiamava Città Nuove, ha cercato di portare dei vantaggi a se stessa e al suo cerchio magico, però poi come tutti i noti vengono al pettine e quindi è dovuta per forza di cose di mettersi. Ci sono nelle descrizioni che tu fai, caratteriali da Polverini, qualche tratto in comune con Fiorito, Mentre invece io ho trovato, voglio sapere se tu sei d'accordo, il quadro di Maruccio forse quello veramente più triste. Ma da un certo punto di vista sì, perché umanamente anche se quella vicenda a mio avviso è stata raccontata, io ho cercato di raccontarla anche leggendo le carte della magistratura, però fino in fondo secondo me non è stato detto tutto, anche perché il processo a Maruccio ancora non ha iniziato, non si sa neanche quando inizierà. Quello a Fiorito, già stiamo al primo grado, c'è stata una condanna, molto probabilmente ci sarà la pelle. È vero Fiorito che aveva chiesto il rito abbreviato, però Maruccio non si sente più, non si vede più. Maruccio era uno di quelli che in Consiglio regionale faceva il duro e puro, la trasparenza, la legalità, le solite cose alla Di Pietro, no al gruppo dell'IDV. Poi quando è uscito fuori lo scandalo dei fondi dell'Italia dei Valori in Consiglio regionale, poi abbiamo scoperto che una parte di quei soldi Maruccio li usava, secondo l'accusa, per curare il suo vizietto alle slot machine. Questo era il mio accenno mesto in qualche modo. Bene, in chiusura io ringrazio Massimiliano Iervolino, ricordo De Follazio, lo inquadriamo un attimo ma poi metteremo una copertina ovviamente in apertura di questa intervista a De Follazio Massimiliano Iervolino per infinito edizioni con prefazione di Paolo Mondani e postfazione di Rocco Berardo. Grazie ancora, grazie Massimiliano.